Credo che sia pronto anche Gioi Montemurro, tra pochissimo lo avremo, però vedo Martina, quindi torno a Vinovo così appena è pronta parleremo anche con il mister. Martina, insomma, dicevamo, sicuramente sanguigno anche, no? Pistolesi, però... Sì, io sono un po' di parte, perché fra Toscani, lo sai, è stato quello che gli ha permesso poi di accompagnare anche il Napoli nella salvezza dello scorso anno, perché è servito proprio anche il suo carisma. Intanto arriva anche mister Montemurro, eccolo qui. Esatto, molto più calmo. Allora andiamo da mister Montemurro. Complimenti per la vittoria. Grazie, grazie. Sì, complimenti anche per il record a mister Montemurro, questi 30, magari lui è arrivato quest'anno, ma comunque è l'artefice di fatto del record di 30 vittorie consecutive. Ma faccio un piccolo parte di questo, devo dare i complimenti all'ex allenatrice, ai giocatori che hanno fatto parte di questo grande record e sono stati molto, molto bravi. Io non posso prendere credito. Io volevo chiedere una cosa al mister. Se aveva preparato la partita un po' così, nel senso, partire subito forte per chiuderla prima possibile e poi iniziare un po' magari a non sprecare troppe energie, visto che mercoledì vi aspetta una partita molto impegnativa. Sì, abbiamo fatto un piccolo turnover per iniziare, per cercare di andare subito. E da lì, sì, è andata bene. Poi ho cercato di gestire la partita nel secondo tempo e poi è andata così. Francesca? Sì, il mister non si sbilancia, però intanto le sue sono 11 partite, 11 vittorie, 36 gol fatti, 2 subiti. Insomma, è una Juve veramente interessante, bella da vedere, da vivere, anche in risultati di Champions League. Faccio fare però una domanda da mister Cabrini. Ciao mister, ciao. Salve, salve. La mia domanda è quella, io penso che per un allenatore che deve affrontare tra qualche giorno un'importante partita come quella di Champions League, la partita attuale di oggi è perfetta, nel senso vinci 2-0 dopo 10 minuti, poi gestisci per gli altri 80 minuti la gara. Penso che a livello anche mentale è stata una partita non troppo faticosa e quindi gestita nel migliore dei casi. Sì, delle volte sai, quando fai tanti cambiamenti si trova un disequilibrio, si sbilancia un pochettino la squadra, però l'abbiamo gestita abbastanza bene. Sì, è andata bene così e poi anche mentalmente abbiamo messo bene le ragazze che tutto ci sentono importante di questo cammino, anche se giocano il secondo tempo, non giocano o giocano 5 minuti. E' importante non solamente gli 11 ma il gruppo per gestire tante partite, per gestire partiti ogni tre giorni e bisogna essere il gruppo molto unito su questo punto di vista. Mister, velocemente, la partita di mercoledì è sicuramente importante contro il Chelsea, ottimo il risultato della precedente contro le Svizzere, però avete sbagliato molto, c'è qualcosa da fare per non replicare questi piccoli errori che contro il Chelsea ovviamente possono diventare importanti? Sì, sbagliato molto sul gioco o gol? No, sul gol, gol, gol. Le occasioni da gol. Ah, sui gol, guarda. Guarda, per me lo vedo che li stiamo creando, li stiamo creando col nostro gioco, arriviamo lì, e poi ci vuole la bravura tecnicamente per finalizzare. Facciamo molto sul campo per farlo e speriamo che arriveranno. E allora in bocca al lupo, mister, noi saremo lì a tifare per voi e ci vediamo la settimana prossima. Grazie.